è partito anche il mio azione wow signorina Chantal lei è bellissima beh questa sarebbe la mia prima volta come funziona? io vorrei sicuramente vedere quando o almeno può essere e poi vorrei poterle toccare un po' il culo e le tette beh comunque sappia che sono un ragazzo un po' all'antica quindi per me è il sesso sostanzialmente